E bello a tutti ragazzi, Quareghi che mi parla Oggi siamo qui tornati con un nuovo video molto particolare Non è un video di armi, non è un video di build come facevamo un tempo fa Ma siamo qui con un video mai portato E parliamo di bug su salva al mondo Cose che ci sono accadute mentre giocavamo in sessioni di gioco normalissime E che ci hanno stupito Infatti oggi vedremo tante 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 di quelle cose veramente pazzesche Ovviamente i video saranno suddivisi in più video Perché uno non basta Oggi vi mostriamo un po' di cose E nel prossimo vedremo altro Ovviamente anche voi potete dare la vostra durante i video E come? Basta che ci mandate in privato o su Discord o su Telegram O comunque anche su altri social I video o le click, gli screen in qualsiasi bug vi sia successo su salva al mondo Così che potremmo farci un video e mettere tutti quelli che avete fatto voi E che dire Qui da regga è tutto Bella regà Vi lascio alla visione Ciao a tutti терmina Ciao a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.